Città del Messico, Messico di nuovo sotto shock. Il paese è stato colpito da un sisma di gravissima intensità. 7 e 1 di magnitudo. Ad appena 12 giorni da quello di magnitudo 8 febbraio che a inizio mese ha sconvolto il paese. Causando almeno 98 morti, un nuovo terremoto è stato registrato a 12 chilometri a sud-est di Axo Chiappan, nello stato di Morelos, circa 160 chilometri dalla capitale massicana. Le vittime sono moltissime. Nello stato di Morelos si parla di almeno 42 morti, mentre almeno 5 sono registrati a Puebla. Tra loro due donne sui 30 anni, che hanno perso la vita nel crollo di una parte della facciata di un edificio nel centro storico della città. A quanto si riferisce, stavano camminando vicino alla cattedrale. Anche un uomo e una donna sono morti per il crollo di parti di edifici, uno dei quali ospita la scuola normale dello Stato. Il governatore dello Stato di Messico, che circonda a nord-ovest il distretto federale che ospita città del Messico, ha detto che nel suo Stato ci sono almeno due morti. Complessivamente, dopo un primo bilancio, si parla di oltre 150 vittime. Ma sono numeri destinati, purtroppo, ad aumentare col passare delle ore. L'interruzione di energia elettrica ha lasciato al buio oltre 4 milioni di persone, così come l'erogazione del gas è stata sospesa in molte zone del paese colpite dal sisma per il timore di esplosioni e incendi.